Buongiorno, oggi ci troviamo a Zelo, un buon persico, nella provincia di Lodi. Vi proponiamo un immobile di circa 55 metri quadri con un box, un immobile in corte, completamente ristrutturato, con delle bellissime rifiniture. Andiamo a visionarlo. Eccoci alla visione dell'immobile. Come vi dicevo, oggi vi proponiamo un immobile posto all'interno di una corte. Siamo a un primo piano, un immobile di circa 55 metri quadri commerciali, completamente ristrutturato. Abbiamo un portocino blindato, alla mia sinistra la zona per la cucina. Poi proseguiamo nella zona giorno dove abbiamo la zona tv sulla mia destra, divano e tavolo. Come notate, l'immobile è stato, come vi dicevo, completamente ristrutturato. Abbiamo una pavimentazione che era stato percelanato, effetto marmo, porte bianche, è stato rifatto l'impianto idraulico e l'impianto elettrico. Ci spostiamo nel disimpegno dove alla mia sinistra abbiamo il bagno e alla mia destra la camera da letto. In bagno abbiamo una porta a scrigno per recupero dello spazio, piatto doccia di ottima metratura. Sulla mia sinistra ci va il lavandino e in fondo bc e bidet. Terminiamo con la camera principale. Sulla mia sinistra c'è la zona letto con i due comodini, zona armadio e zona cassettone. Abbiamo terminato la visita dell'immobile. Vi andiamo a riepilogare ciò che vi abbiamo presentato oggi. un immobile di due locali posto al primo piano in un complesso di corte con un box di pertinenza. L'immobile lo troverete in pubblicità sui nostri social, sulla pagina Facebook, canale YouTube e TikTok dell'immobiliare Freedom e inoltre sarà presente presso le nostre sedi. San Giuliano Milanese, via Massimo Gorghiotto, San Donato Milanese, via Morandi 23, Milano, via Molino delle Armi numero 5. Ci aspettiamo di persona per la visione dell'immobile.